Cari amiche e cari amici di Barba Sofia, sicuramente esistono problemi ben più gravi del dover abbandonare i social a causa degli insulti reiterati, degli insulti pesanti, però la vicenda di Loretta Goggi che decide di abbandonare i social in seguito agli insulti che ha ricevuto per la pettinatura, per come si è vestita, per come ha cantato, ci ancora una volta proietta dentro una veramente voragine culturale antropologica, la violenza in rete. Ripeto, ci sono violenze probabilmente ancora più gravi, ma non è una questione di fare una classifica delle violenze. La violenza verbale nasconde veramente un disagio di un'epoca, di un tempo, forse raccoglie lo spirito del tempo o forse è uno spirito del tempo marginale e dunque verrà derubricato poi ad inezia. Però gli episodi sono tantissimi, episodi di personaggi pubblici che non riescono più ad avere un profilo in quanto bersagliati costantemente da insulti, da volgarità, ma così anche il caso di tante persone meno pubbliche, nel senso meno famose, meno note, perché tutti siamo pubblici, che di fatto non riescono più a vivere una vita sui social perché sono prese appunto di mira da persone che decino di insultare pesantemente e di offendere. Ripeto, uno può dire, vabbè, ti farai una vita fuori dai social, non è questo il problema, certamente si può vivere fuori dai social, anzi forse uno potrebbe dire ci si libera dalla tirannia dei social, però c'è l'altro lato da esaminare. Questo desiderio di violenza verbale, questo sfogatoio, questo dover diventare leone da tastiera che è il contrario del leone niciano che si assume la forza di affrontare il nichilismo e di guardarlo negli occhi e di aggredirlo e di abbandonare la vita da cammello. Leone da tastiera è più che mai cammelle, più che mai vittima del nichilismo, più che mai vittima di un vuoto e questo vuoto si colma con l'insulto, non c'è nulla di superomistico nell'insulto, più che mai nell'insulto da tastiera. Però c'è un vuoto, ancora una volta il tema per me fondamentale è quello del vuoto, del vuoto che ti porta a passare tantissimo tempo in rete, magari come wire, oppure del vuoto che ti porta a voler essere protagonista di un momento della tua giornata andando ad insultare chi in quel momento ti ha urtato, ti ha urtato chissà per quel motivo. Ti ha urtato politicamente? Allora, sbagliatissimo, potrebbe essere un insulto più forse ponderato, non è mai ponderato, più motivato, forse mai motivato, ma spero mi capiate. Si è arrabbiato, si è arrabbiato perché quel politico ha rubato, perché quel politico ha emanato una legge, ha votato una legge che tu reputi ingiusta, sbagliata, l'ha mosso da una rabbia politica, ti scagli sui social. Possiamo immaginare questo tuo scagliarsi, scagliarti politicamente più nobile, però esistono tanti altri modi per poter anche argomentare, per poter parlare, per poter esprimere il dissenso, non l'insulto, la violenza. Per la maggior parte poi degli insulti non sono intorno alla politica, ma sono intorno al calcio, ad esempio, allo sport, sono intorno al fisico, sono intorno a minoranze, spesso sessuali, sono intorno le donne. Bisogna ammettere che ci sono delle categorie che vengono particolarmente insultate in rete, allora appunto gay, lesbiche, le donne, i sportivi delle scuole del cuore, più che gli avversari, quello che ti deludono, allora tu cominci ad insultare pesantemente e poi gli insulti sul corpo, sul corpo degli altri, non può essere un corpo brutto, ma dai, fai schifo, copriti, non ti vergogni. Cosa nasconde questa manifestazione di rabbia, di odio, questa manifestazione di volgarità, nasconde inquietudini, povertà, il vuoto, il nichilismo, tutte risposte che funzionano, è una sublimazione quasi di impotenza, cioè sublimo l'impotenza e lo trasformare in una forma di bipotenza, cioè getto le mie debolezze via da me andando ad insultare, in realtà le stai accrescendo le tue le tue debolezze, però la situazione è effettivamente preoccupante, la squadra di pallavolo nazionale, Miriam Silla, Paolo Egonu, dopo l'eliminazione dei mondiali, alle olimpiadi, insultate in maniera vergognata, ma cosa ti può portare ad andare su un profilo e dire fate schifo, ammazzatevi, buttatevi nel cesso, anziché curare il corpo pensate a vincere, vanitose, cioè con un odio, con un odio, fate schifo, ripeto, non tornate più, cambiate sport, ripeto, ammazzatevi. Quanti giocatori di calcio, io magari seguo più quelli della mia amata squadra, allora vai sotto quelli che sono più scarsi, o che il pubblico ripeto è più scarso, uno è più scarso di un altro, allora il su di casi, sotto De Sciglio, Rugani, io parlo della Juve, potete parlare di altre squadre, vai a lavorare, vabbè, ammazzati, fai schifo, non farti più vedere, va bene, sei in indegno, sei una merda, ma per quale motivo tu devi partire e andare a dire queste cose, cose che ti muove, la rabbia, la delusione, sicuramente perché quella persona è per te importante, altrimenti non dedichai tutto questo spazio, questo tempo, oppure proprio perché sei una dimensione di solitudine, sei una dimensione di vuoto, è il caso di Greta Goji, è terribile, Greta Goji è una cantante sugar, anchor woman, è stata una sugar a 360 gradi e a una certa età si è presentata, sentata, ha cantato, ti ha fatto sorridere e ridere, l'hai trovata buffa, l'hai trovata invecchiata male, qualunque sia la tua opinione, va bene, ha cantato male, era stonata, ha messo un vestito inadeguato alla sua età secondo te, ma devi andare sotto il suo profilo di insultarla, alcuni mi diranno, allora non apriamoci il profilo, va bene, ci sta questa risposta, però ce n'è un'altra, Monte, il rispetto, puoi andare eventualmente a scrivere non mi piace come ti sei vestito, mi chiedo perché devi andare a dirglielo, però ci può stare, va bene, ci può stare, andare ad insultare presentemente per come sei vestito, per come è ormai il tuo corpo, è assurdo, siamo malati, questa è ovviamente una società malata, una società che va sotto i profili di giocatore ad augurare la morte, è una società che ha delle malattie, che sta incubando una malattia, chiamatelo anichilismo, chiamatelo vuoto, chiamatelo appunto frustrazioni, ma non dobbiamo sottoluttare, queste persone sono tra noi, vivono in mezzo a noi, sono magari i nostri amici, sono i nostri amici, sono persone che ci sembrano normali perché sono normali, ma la normalità non esiste, dentro la normalità c'è questa rabbia, c'è questa frustrazione, c'è questa solitudine. Io torno a dire che il problema è quello di From, essere o avere, una vita per l'avere fa sì che noi non siamo. Nel momento in cui non siamo, non siamo strutturati, non abbiamo un orizzonte, non siamo persone cresciute, non ci siamo confrontati con noi stessi, ora ecco che emergono queste miserie, queste solitudini, queste rabbie, queste piccolezze, emergono veramente queste miserie e la miseria umana è ciò che dobbiamo sempre avere il coraggio di guardare, di affrontare perché la miseria umana è veramente molto vicina a noi, tutti noi possiamo avere dei cedimenti proprio perché è difficile stare al mondo, il problema è che difficile stare al mondo vuol dire affrontare il mondo con filosofia, vuol dire affrontarlo, però in senso ampio per me, vuol dire affrontando il mondo andando a cercare un senso, un nostro senso dentro questo mondo, se non passiamo per questi passaggi, se non passiamo per queste strade, è che ci abbandoniamo a questo vuoto, a questo insulto, io continuo a ripetere, i social non sono pubblici perché hanno un proiettario privato, ma sono un luogo che diventa pubblico, in un luogo pubblico bisogna imparare a convivere con gli altri, convivere con gli altri vuol dire metterci la faccia, vuol dire confrontarsi, accettarsi, faticare, vuol dire appunto crescere come collettività, invece noi preferiamo l'insulto perché non siamo collettività, preferiamo appunto le parolacce, le offese, perché non siamo più capaci a vivere con gli altri, che io spero in questo inizio di scuola che la scuola, potrebbero farlo famiglia, potrebbero farlo tanti altri soggetti anche pubblici, politici, beh che la scuola metta al centro la dimensione relazionale umana, perché possiamo conoscere tutto quello che vogliamo conoscere, possiamo conoscere, e diciamo è un bel risultato, ma non basta conoscenza, non bastano le conoscenze, servono anche le emozioni, le conoscenze allora non soltanto contenutistiche, logico-matematiche, ma servono anche le conoscenze emozionali, impara a conoscerci e a gestire le nostre emozioni, altrimenti ecco la rete diventa più che mai un luogo di disagio, un luogo di sofferenza, un luogo di malessere, che nasconde chiaramente il malessere dell'individuo, il malessere della società, bisogna curare il malessere prima che esploda ancora più di quanto non stia già esplodendo.